Vogliamo ringraziare il Diamanio Forestale che ci ha permesso insieme all'Incambiente di svolgere questa bellissima attività e la nostra Preside che ha permesso a noi, i ragazzi della Quinta dell'Ipsio Ignazio di Vincenzo Florio di Erice, di venire qua e continuare il progetto per l'ambiente ma anche per ricordare due nostri compagni che sono venuti a mancare due anni fa, Aldo e Gianluca, a cui oggi dedichiamo due alberi di carrubo che guardano proprio il nostro territorio e Macari, di cui Aldo era cittadino. Grazie tante!